Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni con tendenza fino a 15 giorni. Come dire, parleremo del tempo previsto all'incirca fino al 22 di settembre. Bene, ci sarà un'interessante fase quasi autunnale con piogge su gran parte dei giorni, appunto fino al 22 piogge, anche diciamo abbastanza intense e arrivano anche fresche, qualche volta fredde, correnti atlantiche. Avremo tre fasi. Una prima fase tra l'8 e l'11 di settembre, quando un ciclone in arrivo dal Marocco raggiungerà domenica il centro-nord d'Italia, richiamando venti più freschi e temporaleschi dalla Francia. Poi lunedì il ciclone raggiungerà anche al sud e sono previsti accumuli entro mercoledì 11 superiore a 50 mm, quindi qui il rischio di non bifragi, sul nord Italia. Intorno a 30 mm sulla regioni tireniche, 10-15 mm sul resto dell'Italia. Una seconda fase, quando un possente ciclone in arrivo, anche freddo perché in arrivo dal sud della Groenlandia, genererà un ciclone secondario sull'Italia, anche questo abbastanza possente e persistente. Rovesce temporale tra il 12 e il 15 di settembre su tutta l'Italia, accumula fino a 50-100 mm sulle regioni di nord-est, Levante e Ligure, Alpi centro-orientale, Campania e Calabria. 10-20 mm sul resto dell'Italia. Una terza fase tra il 16 e il 22 di settembre, quando il ciclone si sposta da prima verso la Grecia e poi verso la Turchia, lambendo, però inizialmente anche le regioni del Medio Adriatico al sud, dove sono previste ancora rovesce temporale pomerigliane. Tra il 19 e il 22 di settembre potrebbe esserci bel tempo su tutta l'Italia, perché un ciclone centrato sulla Scandinavia riuscirà a lambire gran parte della penisola. Per quanto riguarda le temperature, queste subiranno un crollo in due fasi. Una prima fase tra l'8 e l'11 di settembre, quando le temperature scenderanno intorno a 26-28 gradi al nord e 28-32 sul resto dell'Italia. Un secondo calo più interessante tra il 12 e il 15 di settembre, quando le massime scenderanno al nord tra 20 e 25 gradi, farà freddo soprattutto il 13 e il 14 di settembre. Al centro scenderanno fino a 23-26 gradi, freddo il 13 di settembre, al sud i valori tra 23 e 26 di settembre. Poi tra il 16 e il 22 le temperature saranno in risalita, ma resteranno quasi ovunque sotto 30 gradi.